La visita di Orchidea Uffa, pigna! Che noi arci folletta! E ordina di qua, e spolvera di qua, e pulisci qui, qui, poi lava qui, ecco, asciuga questo, ehi ciao, sei venuto a trovarmi proprio in un momento pignoso, forse il momento più pignoso della settimana, le grandi pulizie in casa, lo so che bisogna tenere la casa ordinata e pulita, ma a me costa una fatica enorme, e ogni volta che arriva questo giorno, io mi sveglio con la luna storta, no, non è che la luna sia storta veramente, è solo un modo di dire, però è vero che la luna influenza anche l'umore, e non solo quello, si dice che non bisogna tagliarsi i capelli quando la luna è calante, altrimenti crescano più lentamente e più deboli, e poi è la luna a provocare le maree, guarda, ti faccio vedere anche il mio libro sulla luna, vedi, la luna ruota intorno alla terra, e non scappa nello spazio, perché la forza di gravità della terra la tiene vicina, e poi, guarda, vedi, in questo posto il mare arriva fino agli scogli, quando c'è alta marea, e sempre nello stesso posto il mare può lasciare libero tutto questo tratto di spiaggia, quando c'è la bassa marea, e questo movimento del mare si chiama marea, ed è dovuto proprio dall'attrazione della luna. Ah, ci pigna, beh, adesso devo andare ad aprire il chiosco, altrimenti farò tardi, e finirò di pulire più tardi, ci vediamo dopo. Fruscia, ruscello, scivola e sciacqua, sciogli la foglia che fruscia nell'acqua. Mamma sardina, ma che cosa succede? Che fortuna è arriva, cercheggiavo proprio te, Fatozzola. Cercavi me? E come mai, Orcorubio? Ho bisogno che tu mi inforni. Che ti inforni? Ma non sei mica un cinghiale? No, che tu mi inforni su una cosuccia. Sta riveggiando qui al faltabosco per una visita, la mia adombrata Orchidea. Orchidea, la tua fidanzata viene qui? Ma che bello! Eh sì, e quindi avevo bisogno di un consiglio, di una fatonza, di una sardina, di una femmina, e insomma un consiglio per accoglieggiarla meglio. Orcorubio, lo sapevo che avevi un animo gentile, e io sono contentissima di conoscerla, e qua al faltabosco tutti si daranno da fare per accoglierla al meglio. Ma tu potresti fare una cosa bellissima, potresti ad esempio pulire per accoglierla bene la tua caverna. Pulire la mia caverna? Sì, tutte quelle cose, non so, come spazzare, pulire e spolverare. Ma fa tonzola, ma ci ho messo mesi per forrelare tutto il mio pavimentolo di scorze di cotica, di mortadelle, di pezzi di salavonzoli. Beh, in effetti, io non so che cosa piace a un'orchessa, però sono sicura che lei sarà contentissima se tu le farai trovare un bel mazzo di fiori profumati in mezzo al tavolo. Fiori? Ma orchidea i fiori li calpesteggia, in mezzo al tavolo gli farò troveggiare un cinghianolo con una mela nel grugno. Beh, se a lei piace così, però se non mi sbaglio, se tu le farai trovare un regalo, un bel regalo, ma sì, un pensiero che le faccia capire quanto l'ami, vedrai, sarai entusiasta. Un regalo che le faccia capeggiare quanto l'amoreggio, e cioè? E cioè? Non lo so, dunque, i fiori non le piacciono, i libri, le piacciono? Eh, le leggi, eh, soltanto quelli dove si parla di bumbi pappeggiati. Oh, forse meglio di no. I cioccolatini li mangia? Ci guarnisce i cinghianoli. Mmm, le collane, le indossa le collane? Beh, se sono fatte di salsicciole. Oh, pesce, pazienza, bocca la mia lenza. Insomma, ma cosa vuoi regalargli, Orcorubio, la luna? Mamma orca, ma la luna è un regalo bellerrimo per Orchidea, sì? Ah, ero sicuro che mi avresti infornato, sì? Milo! Milo, buon folletto amico mio! Avresti un po' di pietà per un povero lupo affamato? E in che cosa dovrebbe consistere questa pietà? Beh, ecco, per esempio, non so, se potresti regalarmi uno di quei prosciuttoni che hai messo giù in cantina a stagionare, ecco, per dire. Eh, appunto, quei prosciutti devono stare in cantina a stagionare ancora a lungo. Posso offrirti un bicchiere di tiramisúper, hm? Eh, sai che roba? Tiene. Sì. Ma non sai che fa proprio schifo? Oh, se fa schifo fa schifo. E poi, e poi che cosa vuoi che fate a mio povero stomaco vuoto? E' così vuoto, più vuoto di un buco nero. A proposito di bucchi neri e di spazio, Lupo Lucio, guarda, stavo leggendo. Lo sapevi che gli egizi pensavano che la luna fosse l'occhio sinistro del dio oro, che viaggiava su un fiume celeste formato dalla Via Latte. L'occhio sinistro, sì, perché il destro cos'era il sole? Questo non lo so, però so che i cinesi, fino a pochi pignalenti fa, temevano che durante le eclissi di luna, e cioè quando la luna attraversa il cono d'ombra della terra e si oscura completamente, stesse combattendo con un gigantesco drago che voleva divorarla. Divorarla? Divorarla? È certo che voleva divorarla, no? La luna assomiglia a un'enorme forma di formaggio con i buchi, sì. E io c'ho una fame, ecco tu pesa, questa forma di formaggio che viene mangiata, che diventa sempre più piccola, 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 finché rimane una minuscola fettina che trocco, 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 e diventa sempre più grande. E a me, e a me viene fame, 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 fame. Moluccio, ma quelle sono le fasi della luna. Vedi, la luna può essere calante o crescente. E queste fasi dipendono da quanta superficie lunare vediamo illuminata dal sole. Ho letto, un bel barilotto di bumbomele. Ciao, Orco Rubio, oggi sei proprio di buon umore. Sì, sto andando a prendeggiare la luna per l'arrivo della via adobrata orchidea. Ma la luna non si può mica acchiappare, Orco Rubio. Sta a pignanta mila, pignanta mila pignometri di distanza, nello spazio profondo. La Fatonzola mi ha detto che devo regaleggiare la luna ad orchidea e allora vuol dire che c'è un modo per prendeggiarla. Ma sono sicuro che la Fata diceva così per dire. Era per dire che devi farle un regalo carino, prezioso, raro. Io voglio la luna e sono discrosso a dare qualsiasi cosa a chi me la porteggia. Qualsiasi cosa, eh? Orco Rubio! Carissimo amico, ma guarda sei fortunatissimo perché tu non sai ma noi lupi da pignalenti e pignalenti e pignalenti ci tramandiamo un modo per poter acchiappare la luna, eccoci. Allora porteggiamela subito. Ecco, adesso ti spiego però vedi, siccome io ho un po' fame, ho lo stomaco vuoto, ecco, non ho la forza necessaria per poterlo acchiappare. Allora... Non la vai giù. Aspetta, aspetta. Anche qua! Non te la porto subito! Sì? Beh, io intanto vado a cacceggiare qualche cighiagliolo per la mia dobrata orchidea. Ah, cipignaccia, quel lupo scherza proprio col fuoco. Per gli alti salti di re salmone non c'è molto da fidarsi di Orco Rubio. Accoglierà la sua fidanzata con un mazzo di cotecchini e due grogni di maiali attaccati alla porta. Per fortuna ci sono qua io e farò un bel festone colorato attaccato a due alberi. Sì, sì, se mi ricordassi come si fa... Ciao, Fatalina! Che cosa stai facendo? Milo, meno male che sei qui. Volevo fare un festone colorato per accogliere l'orchidea che sta arrivando. Sì, ma non mi ricordo come si comincia. Ma è molto semplice. Allora, devi prendere delle striscioline di cartoncino, come queste. Sì. Vedi, poi devi chiuderle ad anello, in questa maniera qua. Poi le fermi con un punto di spillatrice. Poi prendi un'altra strisciolina di cartoncino, la infili dentro l'anello, la chiudi ad anello, anche questa, e la fermi con un punto di spillatrice. E via via così. Che bello. Ascolta, però poi volevo fare un cartellone con scritto Benvenuta Orchidea e metterlo proprio in mezzo al festone. Bello, preparalo, dai. Magari puoi fare una lettera con un colore diverso. Certo, tu prepara la catena e io inizio la scritta. Sì, allora, ecco un altro anello. Allora. Un altro ancora. Inizio con il rosso. Sì. Sì. Inizio con il rosso. Ecco fatto. Io ho quasi finito Fatalina. Anch'io. Ecco l'ultima anello. Ho finito la scritta. Ecco fatto. Adesso Fatalina, aiutami. Dobbiamo attaccare questa catena colorata a questi due alberi. Tu attacca la... Ad un ramo di quello. E io l'attacco a questo. Sì. Ecco qua. Messa? Sì. Anche io. E poi vorrei mettere la scritta proprio qua nel centro. Ah, certo. Allora, non rimane altro che prendere i cartoncini sul quale hai fatto la scritta tu. Sì. Ecco, regina. Adesso devi fare quattro forellini. Uno qua, uno qua. Uno qua e uno qua. E con quattro pezzi di spago leghi i cartoncini al festone colorato. Grazie Milo. Non ci fossi stato tu, sarei ancora qua a pensare come fare. Grazie alle mani. Per me tu hai fatto. Grazie alla bocca perché tu hai parlato. Grazie ai piedi. Per me sei andato. Grazie alle ore e ai minuti perché era il tuo tempo e l'hai speso per me. Ma prego Fatalina, ma io mi sono soltanto divertito. Beh, adesso sarà meglio che torni al chiosco. L'impressione che il lupo Lucio mi stia aspettando lì. Ciao Fatalina. Io attacco questi. Sì. Mamma lupa, sì. Rubare questa forma di formaggio nella cucina di Cuoco Basilio è stato uno scherzo da lupetto, sì. E adesso, 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 ecco, farò dei buchi, sì, per simulare i crateri lunari, sì. E così quel tontolone di orco rubio ci cascherà. Sì, perché sono convinto che anche lui pensa che la luna sia una forma di formaggio da mangiare. Eh sì. E gne gne gne. Ecco qua. E gne gne gne. Ecco qua. Sì. Però che profumino, eh. E gne gne. Vabbè, quasi quasi ne mangi un pezzettino, eh. Io. È buono, eh. Guardi, 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 guardi. Ah, me ne mangi un'altra fetta, sì. Ecco. Mmh, buonissima. Vabbè, dirò a orco rubio che era in fase calante, sì, sì. Con un po' di fortuna orco rubio potrebbe cascarci. Anzi, a Cipigna, con molta fortuna. Vedi, ho preso un palloncino, l'ho colorato di grigio e poi con un pennello nero ho disegnato dei crateri in modo da farla somigliare il più possibile ad una luna. Ah, nonno sciacallo, in che guaio mi sono cacciato, Milo, solo tu puoi aiutarmi. Sentiamo, che cosa hai combinato stavolta? Oltre al fatto di poter sostenere e di poter raggiungere la luna. Ah no, un momento, io la luna l'avevo raggiunta. Era questa forma di formaggio, era bellissima, con tutti i buchi, sembrava una luna piena. E allora? E allora, e allora solo che... Oh, è troppo buona. E allora l'ho mangiata, l'ho mangiata ed è rimasta solo questa fettina. E dubito che orco rubio possa pensare che sia una fettina di luna calante, anzi, molto, molto calante. Ah, e quel che è peggio mi scorticherà, sì, perché ho anche mangiato le salsicce e il pollo. Ma sei proprio un ingordo. Non meriteresti neanche di essere aiutato. No, Milo, Milo! E va bene, va bene, visto che non voglio assistere ad una scena di scorticamento di lupo qui al mio chiosco, ti ho preparato un'altra luna. Oh, giocera! Allora, legala ad un ramo vicino a un arbero di orco rubio e poi speriamo che ci caschi. Sì, grazie Milo, 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 io vado, eh. Allora, lupostro, dov'è la luna per la mia pucella? Ma guarda, orco rubio, eccola. Eh, ma com'è il piccolo Erriba? Ed è anche leggerozzola. Beh, però, forse a Orchidea piaceggerà, sì. Tienimelo un pignuto che voglio beveggiarmi il mio bubbo bello. Oh, la mia luna! Allora, allora, non era una luna vera. Mi hai preso per il lasonzolo, lupaccio! No, io devo andare, ciao, eh, ciao! Oh, mi ha fatto la barba al lasonzolo, come... Orco rubio, vieni, bevi qui un bumbomele. No, lo striccolo, lo spezzolo, lo spezzolo. Orco rubio, poi ci pensi, adesso bevi il bumbomele. Lo strapazzolo! E bevi il bumbomele, su! Per gli alti salti di Re Salmone, abbiamo fatto un lavoretto bellissimo. Fatalina, Fatalina! Ah, per fortuna sei qui, se no tu puoi aiutarmi. Che cosa sta succedendo? C'è un corubbio che mi cerca per scorticarmi vivo e la colpa è tua. Colpa mia? Sì, sei stata tu o non sei stata tu a mettergli in testa che doveva regalare la luna d'orchidea, eh? Beh, insomma, non è andata proprio così, ma tu che c'entri? Eh, così. Oh, oh, non ho tempo a me spiegartelo! Presto trovami un'altra luna! Dov'è? Dov'è andeggiato quell'imbroglione, quel ladro di polli? Mi hai broglieggiato? Mi ha dato una luna funterrima! No, orcorubbio, calma, lo poruccio non ti è andeggiato, veramente. Orcorubbio, stai tranquillo. No, infatti l'ha acchiappata e l'ha messa in un posto sicuro. L'ha acchiappalata? Sì. Ma sì, scusa, e dove l'ho messa? Nel laghetto. Nel laghetto? Ha messo la luna nella gonzola. Ma certo, quando si stacca la luna dal cielo, bisogna metterla a conservare nell'acqua. Venite, venite a vedere. Lucida luna, perla d'estate, nella tua luce zampettano fate. Pallida luna, perla d'argento, con 500 bambini di vento. Florida luna, perla perfetta, anche il mio sogno con l'oro zampetta. E tutto il sonno del mondo riposa sotto la luna mimosa. Hai visto, orcorubbio? Quando calerà la sera, potrai portare orchidee in riva al laghetto. E le mostrerai la luna. Visto? Te l'avevo detto che potevo acchiapparla. Scusa. È proprio il regalo giusterrimo per l'orchidea. Sì. Luna, sei bella come una mortadella. Sì. Brilli qui vicino come un cotechino. Sì. Mi fai commozione come uno zampone. E felice, io ti guardo come un bel pezzo di ardo. Cipiglia. Hai visto? Anche oggi Lupo Lucio l'ha scampata proprio bella. Ma come si fa a promettere la luna ad orcorubbio? La luna è bella lassù. È bella dove sta, nel cielo notturno. E sembra una grande faccia amica che veglia sul nostro sogno. È vero? Beh, adesso dobbiamo salutarci. Ma tu torna a trovarmi domani, lo sai. Io ti aspetto sempre qui. Ciao. A presto.